Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Bella vecchi dravani per trovare qui sul canale GRANAS E oggi siamo qui con Una nuovissima squadra Una squadra di Merda E veramente una squadra di merda E adesso andiamo a vedere perché Allora partiamo dal portiere che non è un portiere Kagawa Allora vedete non troviamo nessun portiere Che poteva far parte del diarrea team Quindi abbiamo deciso Uno che c'è un bel nome diciamo Prossimo giovedere diarrea team Andiamo al terzino destro Che in realtà è un terzino sinistro Non ce ne sta uno per loro eh A GULO Perché la cacca esce dal GULO Ovviamente Poi anche nella chiesa centrale c'è il classico GIARRASUBA Diarrasupra capito Perché si caga Ma attenzione perché vicino a diarrasupa C'è È troppo bello È stupendo È in culo È in culo C'è guardate che la bellezza A parte che è una bestia Però non c'è intesa Quindi sa farà cagare anche questo E poi al terzino sinistro Abbiamo un altro classico Diarrà Boom Diarrà spadroniggere tutta sta squadra E per forza A centrocampo abbiamo Incredibile Diarrà Non è lo stesso eh Alla sinistra abbiamo incredibilmente Diarrà Ciò ci abbiamo il grandissimo Il capitano di questa squadra Cacà Hai visto tu che il capitano Sì perché è più quello più alto Deo per lui Poi L'esterno sinistra Destro Che non c'era niente C'è non è anche l'esterno destro Lui C'è il grandissimo Gago Come un passato alla Roma Direi felice Gago felice Oh vabbè In attacco abbiamo la coppia Invitabile La coppia che scoppia Lukaku E Oh cacà Bam Quindi ora possiamo partire A farci prendere a calci in culo Siamo pronti Per prenderci calci in culo Questa sarà la prima uscita del Diarrà team Contro chi giochiamo? Sbom Bum Bum Contro l'argento team Ma si va a BPL Ma il Diarrà team è più forte È più forte Vai Attenzione parte Subito Lukaku per Lukaku Assaidi Oh Gago Attenzione se ne va Il grandissimo esterno Lo vedi A Lukaku Vedi Lukaku Oh cazzo Ci ho provato Attenzione al passato Per Diarrà È un cross Diarrà la metti in mezzo Cioè Ma che cazzo Adesso Di nuovo Ancora Bum Mamma mia parla per Angulo Angulo Vedi Lukaku Lukaku è partito Lo fai Lo fai Tranquillo No male Metti in mezzo Metti in mezzo Ma metti in mezzo E vai adesso Sei un coglione comunque Falco 2 Cioè No Dai che sfiga Eh vabbè Colore Kagawa Kagawa E prendiamo il gol Dopo che vogliamo andare in vantaggio Attenzione eh È uscito meglio comunque Di Vedenfeller Mamma mia che passaggio per Lukaku C'è intesa Ancora Lukaku C'è intesa proprio Ancora Lukaku Oddio Se va tutto da solo Oddio Tutto da solo Lo fai Vai No Non c'è tua Di cagata Di tiro Ma vaffanculo Vabbè senza gambicino sti cazzi Vai Vai No vana No vana cazzo Mi hanno addosso Mi hanno addosso Eh gli devo andare addosso Quelle vaghe Palla vaffanculo Ma che abbiamo Mancarsi le maglie Tra là giusto perché ci deve stare Guarda la tua staglia Brava porta Pensa che coglione Credibile Guardate la schiglia Tanto ha capito Questo può fare come cazzo Gli pare Cioè Guarda 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 Mamma mia Che giocatore Tantina E' un portiere Che non lo sapeva Guarda 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 Perché io sopporto Abbiamo scelto Giacatori più basso Penso Cioè davvero Lugaku Ci prova Lugaku Lugaku Era meglio Lugaku 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 Oh Quando vai Quello spostavo Lugaku così Lugaku 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 Questa mattia al 23esimo Riccardo Ci pensa Riccardo Ci pensa Riccardo Guarda Lugaku 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 Vai 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 Guarda 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 Non è possibile No Guarda Capitato Riccardo Gara Gara cacca mamma, bravura che capitano che gesto tecnico, ma il capitano è il capitano dei cacatori che fai, su banguolo 3 a 1 ragazzi, è incitante questo 3 a 1 si 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 può fare si 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 può cacare oh 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 ma cosa sei buttato poco dopo mamma mia, ma quanto è centrale ma quale zitto? ma guarda con chi sta a giocare zitto il suo politico un'altra c'è un lavoro che c'ha il giardino che c'è un 4 c'è un 3d qui scritta xbox la dio e dice la mia vita e io e non posso cagava per fare il cuore del sostegno per loro cagava e porta cagava e porta guardate per favore di tecnici sono la vaffanculo vabbè sono la parola non si occupa 5 ore a 6 da solo per me non possiamo fare bene è solo il mio testo voler che rende emozionante che ti voglio non lo dico e c'è kakawa c'è kakawa paratone non mi sa no il gioco il gioco no no rio che cazzo mi ha preso Ecco lui Okaca, Okaca, Okaca okazze Okazzo non ci voglio grazie ma mamma mia guardatelo, fino all'ultimo ci crede ci crede ha fatto busta, ha fatto dusta mamma mia Okazze bella, Oddio Stavo a perdere, perché stavo soltanto così? Ma sti cazzo di Porco 2 Porco 2, mamma mia Ma no, io mi stupisco no tanto del gol, ma del cross Cioè, che cazzo di cross ha fatto? Come e perché l'ha fatto? Ma manco che la Bundesliga fa possibile Porco 2 Mamma mia, che azione, ragazzi Stefano Kakaciuga E va bene così Pallone d'oro Ragazzi, 3 a 6, cioè, che sta, eh Ci sta, perché Perché la squadra ha giocato bene Ovviamente erano i primi acquisti Non stavano molto in confidenza Diciamo che adesso hanno preso confidenza con la tavoletta Guarda Ankuru, come va, come va No, perché ha perso palla? Finito Ma vaffanculo Ragazzi, il Jarrea Team Fa comunque una bella figura Cioè, non poteva pensare mai di vincere Giusto? 3 a 3, 3 gol di Okada Ragazzi, Okada, che bomber Un bomber Nel cesso e fuori Veramente un bomber Soprattutto nel cesso Quindi ragazzi, noi ci mettiamo al prossimo video Se avete, eh, di quali altre squadre fare Magari, magari non ci dite il Mortazza Team Blaspia Mia Team Perché già sono state fatte anche il Porno Team Se ci avete idee da fare Ditecelo qua sotto Noi sicuramente faremo un altro episodio così Lanciamo la sfida anche se Frax sta su Xbox Però se se facesse tante volte Se ci avessi FIFA su PlayStation 4 Lanciamo la sfida al Mortazza Team E il Terrenatim lo aprirà In due In due Si, proprio la fettirà La fettirà Esatto E quindi noi ci vediamo al prossimo video Se vi è piaciuto lasciamo 3000 like Al prossimo video Bella Ciao